ottima inquadratura la batteria c'è bene possiamo fare il tuo show vai salve sono ruggine bentornati nel mio caro show oggi siamo qui con un caro elicotterus atterrato qui con grande casualità noi oggi siamo aspetta ruggine ritorna nel set c'è qualcuno di molto strano qui vicino va bene va bene narratore arrivo arrivo ascoltatevi ti ascoltiamo domani il giorno della nostra fine una creatura creata dall'odio sta arrivando per prendersi tutto io l'ho visto aspetta ma di che creatura stai parlando ma questo è matto silenzio testa punta il cattus sta arrivando dovete prepararvi e già che ci siete portatemi anche delle patatine quel matto dice la verità ho bisogno di voi ora venite con me il cattus l'ho già sentito quel nome e non mi piace per niente dobbiamo creare una macchina che possa distruggere la creatura e dobbiamo fare in fretta va bene ti seguiremo non vi preoccupate penserà ruggine a costruire robot dopo solo tre ore ruggine ha costruito il vostro carissimo robot non ringraziatemi wow ruggine è tutto molto bello è fighissimo ma c'è un piccolo problema non credo che il cattus sia così piccolo ah non ricordi il grande occhio che aveva doveva essere più grande oh vedo che hai messo anche uno dei miei colletti molto molto figo come vedi questa dovrà essere l'altezza giusta del nostro robot non solo deve essere molto grande ma deve avere missili energia e tantissime altre armi per qualsiasi situazione non dobbiamo sbagliare nulla ruggine ha però io aggiunto questo guarda che carino ah sì mostrami pure cosa sa fare divertente no ma non è perfetta proprio come la nostra facciamogli vedere come si fa signorina bionda vada in quella stanza ho preparato un'armatura per lei adesso ti fai chiamare signorina bionda e da quando vabbè oh che stile la tua armatura si intona perfettamente con i miei vestiti ah devo trovarti una maschera non ci resta che aspettare ruggine che finisca il suo lavoro finalmente sono scappato da quel deserto ah il cattuz è vicino e sta aspettando solo il mio segnale non mi resta che ritornare come inferno vai spirito di fuoco ritorna perfetto ora non mi resta che segnalare al cattuz la mia posizione e più niente potrà fermarmi per tutti lama quello era inferno come ha fatto a scappare nel bel mezzo del deserto ah non importa chiamerò un vecchio amico lui sì che potrà aiutarci ehi amico ci sono problemi ehi agente ribelle e da un bel po' che non ti vedo agente ribelle è tornato in azione purtroppo vado a darti una bruttissima notizia inferno è ritornato inferno è ritornato oh cavolo e il suo piano del cattuz è tutto vero sta per arrivare questo non va bene ti chiedo gentilmente di pensare a inferno qualsiasi cosa faccia è contro di noi quindi la storia del cattuz era vera vi supporterò dalla montagna più alta a presto ok ci ho messo tutto il giorno tutto il pomeriggio e tutta la notte ed ecco qui il vostro caro robot gigantesco ho messo di tutto missili energia carburante la spazzolata ho messo di tutto e di più proprio come avete chiesto perfetta questa è la posizione giusta vieni cattuz vieni prendi tutta l'energia che vuoi dimorala rendi fiero al tuo inferno a me vorrei SORACOS! stiamo perdendo potenza non possiamo attendere altro entriamo tutti nel robot chiunque abbiamo bisogno di aiuto buona fortuna ragazzi conto su di voi bene io sono al comando chi c'è con me questo cattus non ti prenderà tutto il nostro cibo questo volto sono d'accordo con manzo schiaffeggiamo questo mostro con la pizza oh mi sento come nei power ranger distruggiamo quel mostro sta prendendo l'energia sponda telone in mirino missili niente panico niente panico niente panico sono fortissimi maledetto bene quel robot è fuori gioco non mi resta che lanciare questa così da ucciderli tutti ehi inferno da quanto tempo prendi questo regalo ancora quello stupido soldato un problema in meno non possiamo perdere proprio adesso dopo tutto quello che abbiamo fatto non lo permetterò cosa stai facendo vuoi ucciderci tutti non finirà così prendi questo è il momento dell'arma segreta non Aaaaaaaaaaah! Sono sexy con questo nuovo look vero. Vi ringrazio, nobili eroi, ma abbiamo un altro problema. Ora non ci resta che aspettare. Qualsiasi cosa accada, noi siamo pronti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!